405 unità sono gli ultra ottantenni che saranno vaccinati entro la fine di questa settimana a Morano Calabro. Intanto va il mio riconoscimento all'azienda sanitaria, soprattutto al direttore del distretto, il dottore Di Leone, che sta mettendo a punto questa campagna vaccinale. Ci stiamo organizzando insieme con i medici di base e con gli invermieri che hanno dato la loro disponibilità nel corso della prossima settimana, presumibilmente fine settimana prossima, inizieremo questa vaccinazione che vedrà coinvolte 405 unità nel mio comune, per cui partirà la macchina organizzativa e vedrà coinvolto il comune attraverso la formazione di due unità amministrative e l'ASPE, la Direzione Sanitaria Territoriale, con la fornitura dei vaccini e dei dispositivi di protezione individuale. L'appuntamento sarà nel monastero di San Bernardino. Ringrazio i medici di base che hanno già dato la loro adesione, tutti gli invermieri e i medici che lavorano presso il nosocomio dell'ospedale di Castrovillari per la loro disponibilità. Penso che questa sia una prima partenza verso un vero combattimento al virus. Ci auguriamo che ben presto tutta la popolazione moranese e calabrese possa essere vaccinata.